Grazie a tutti. E andremo a metterci seduti e ragioneremo sul progetto, e ragioneremo sui numeri reali, concreti, e a quel punto sì, potremo fare con noi. Se vi vedete stasera, tu hai parlato del 2017, ti posso parlare di un milione e un mezzo, ti parlo di numeri che voi tu, ma non è così che si fanno i conti. I conti si fanno sulla base di un progetto. Noi stasera stiamo dicendo al nostro tecnico, chiedo scusa, di iniziare a fare un progetto. Mi stiamo chiedendo di iniziare a fare un ragionamento e vedere quelle che possono essere le economie che noi riusciamo a fare attraverso questo modello di bando di gara che andremo poi a fare. Ma queste non sono altro che linee di indirizzo. È come se io andassi, intanto per intenderci, dal mio tecnico e mi dicessi, caro gerometro, caro ingegnere, caro architetto, sentimi, vorrei sistemare casa. Mi metti per cortesia per iscritto, qual è un computo a me, che cosa mi costano di sistemare casa? E quindi stasera stiamo dicendo questo al nostro tecnico, ci fai capire bene quello che sta accadendo e per alcune cose diamo delle linee ben precise perché riteniamo che delle scelte vanno fatte fin d'ora e queste sono delle scelte che riteniamo siano valide. Per quanto riguarda il discorso tecnologie, signori, voi vi rendete conto che le economie di cui andremo a godere saranno chiaramente una percentuale di quello che è il risparmio energetico che ogni anno andremo ad avere. Il risparmio energetico che ogni anno andremo ad avere sarà interesse dell'azienda che vincerà la gara di avere economie importanti. Quindi figuratevi, se la ditta che andrà ad avere ad avvincere il bando di gara non farà di tutto per utilizzare le tecnologie più moderne e quelle che le consentano di guadagnare di più perché poi di fatto la ditta che vincerà non starà certamente a fare beneficenza al Comune di Monzampolo, sarà il Comune di Monzampolo che proprio con il bando dovrà tutelarsi per far sì e quelle che sono le economie che i cittadini di Monzampolo ne trarranno potranno essere sfruttate dai cittadini stessi. Legarsi per vent'anni. Legarsi per vent'anni mi rendo conto che potrebbe essere per certi versi una sconessa. Io dico questo. Quando prima ho detto che in altre situazioni, in altre realtà, non è chiaramente tutto oro quel che riluce, è perché magari un bando a volte è stato fatto male. La nostra non è una sconessa. La nostra è una volontà e pensiamo che sia anche una certezza della capacità di quelli che sono i nostri tecnici di mettere in campo scelte serie, concrete, realistiche che ci portino poi ad avere una tutela di quello che è il destino dei nostri cittadini. Quindi, ben lungi da noi, giocare con il destino dei nostri cittadini, ci mancherebbe altro. L'obiettivo, come dicevo all'inizio, è quello di avere un impianto assolutamente efficiente, di avere un impianto assolutamente enorme e non nascondiamoci che in alcune situazioni oggi non è tutto perfettamente enorme, tant'è che alcune situazioni fanno un po' tremare i polsi, che non è solo la situazione dell'innovazione pubblica alla quale mi sto riferendo. Abbiamo delle situazioni veritate che non è che ci fanno stare tranquillissimi. Diciamo che noi è un anno che stiamo ragionando su queste cose, è un anno che stiamo facendo degli audit con delle aziende, è un anno che stiamo ragionando su come fare e su come agire. Non ci stiamo lanciando in vuoto, non è questa la nostra intenzione. È chiaro che riteniamo che sia assolutamente un discorso di efficienza, quello di riuscire a fare in un anno un tracciato delle linee di indirizzo di questo genere. Noi vogliamo essere efficienti. Abbiamo come linea programmatica quella del voler fare, non quella del voler solo immaginare come potrebbe essere e come non potrebbe essere il nostro futuro migliore. Il nostro futuro migliore noi siamo convinti di poterlo individuare fin da subito. E chiaramente questa è una delle cose che noi riteniamo di dover fare per migliorare quelle che sono le situazioni che riguardano i nostri concittadini. Poi, chiaramente, è ovvio che le tecnologie che dovranno essere impegnate, come dicevo, sono le migliori. Ma questo, come dicevo prima, scaturisce proprio naturalmente dal fatto che chi lo farà non vedrà, diciamo, dovendo mantenere comunque l'efficienza, l'impiantistica, perché ne saranno responsabili. Attenzione. Ne saranno responsabili anche di fronte alla legge. Quindi avranno l'obbligo normativo di tenere in efficienza la nostra impiantistica. Non solo, ma tutte quelle che saranno, come dicevo, le economie che ne giungeranno, saranno in percentuale godute anche dai cittadini. Quindi, su questa, insomma, io vado abbastanza tranquillo, e non voglio, però, convincerevi di nulla e ci mancherebbe altro. Io vi posso fare... Non so, tanto a me fa piacere che voi, che si partecipi tutti alle decisioni da prendere in futuro su quello che sarà la redazione del bando di gara. Anzi, io vi invito, quando sarà pronta una bozza del bando di gara, con un progetto, vi inviterò, vi inviteremo, noi come maggioranza, vi inviteremo a chiacchierare insieme di questa cosa, perché io sono convinto di fare il bene dei nostri cittadini e della cittadinanza tutta. E credo che, magari, io lo auspico anche col vostro aiuto, potremo fare qualcosa di positivo in tutti i sensi. Ecco, non... francamente, non... La voglia è quella di, come dicevo, di fare, di poter migliorare quello che è il nostro territorio. Negli ultimi giorni, insomma, negli ultimi mesi, ci siamo impegnati tanto, stiamo facendo quello che è possibile fare, quello che sono le disponibilità e i vincoli, i lacci e i laccioli, legati come siamo dal patto di stabilità. Quindi, diciamo che comunque, cerchiamo di impegnarci per quello che riusciamo a fare. Noi crediamo di far bene. Magari ci vediamo male, magari ci mettiamo allo specchio e ci nudiamo di essere bellissimi quando magari c'è uno sgorbe davanti allo specchio. Io non lo so. Io non sono... Gli specchi di legno. Esatto, magari ci abbiamo gli specchi di legno e quello è. Però noi ci crediamo che quello che stiamo facendo sia ben fatto. E vi ripeto, ben venga un confronto nel momento in cui avremo un progetto e un bando da sotto. E lì potremo davvero discutere di numeri, parlare magari anche di aggiustare quelli che possono essere oggi delle cose che magari noi riteniamo siano giuste. Perché no? Magari voi potete darci dei consigli migliori. Perché no? Ripeto. Ci incontreremo. Ci incontreremo. Sulla parzializzazione? Sulla parzializzazione io ritengo che avere degli aggiustamenti tecnici per far accendere una lucina sia una lucina o no, aggiustamenti tecnici neanche del tutto a norma, per non dire completamente non a norma, tanto per essere chiari, direi che proprio non è il caso nemmeno di parlare. Perché? Perché la parzializzazione che oggi veniva fatta in passato è una parzializzazione che non teneva conto di alcune situazioni. Ma io vi pregherei di fronte a una telecamera di vedere queste cose perché stiamo tutti nella denuncia. Non si chiama un'area, non si chiama un'area. Vabbè, io vi dico questo. Ci sono delle situazioni per cui la nostra impiantistica non è a norma. Per quello ci siamo spicciati per mettere a norma questa cosa. Articolo di legge, sì. Articolo di legge. Articolo di legge. No, è un articolo di legge. Vabbè. Perché io sono d'accordo su quello, sull'intervento. Sì, perché io sono pienamente d'accordo. Non è stato, lei ha affrontato nemmeno un punto di carattere tecnico. Io sono d'accordo con il tempo che state cercando di fare il bene. Avrei preferito, avrei gradito, ma non è il vieto che stia qui, di magari, di dire come mai per esempio inizio. Eh ma cavolo, sono un vieto, ma partiamo. Quando avremo un progetto, parleremo. Ma se qui addirittura, diciamo che il progetto preliminare viene redatto dall'ufficio testo, il comunale, l'affidetto Maggiore. Sì. Io dico, con quale competenze? Ma non perché è in competenza, ma se non avrà, avrà modo di dirlo, non lo so. Io credo che non avrebbe iniziato. Ma stiamo dando gli indirizzo, vogliamo nominare un tecnico che sia, non... Sarà l'architetto Maggiore a chiederci la necessità eventualmente. Io... Ma se l'architetto Maggiore avrà bisogno di un ingegnere elettronico, elettrotecnico per farsi fare un progetto, ce lo dirà, e noi gli daremo ampio spazio, non c'è problema. Noi stiamo dando... Delle linee di indirizzo. Che stiamo a fare, non ho capito quello che stiamo a fare. Le linee di indirizzo. Stiamo dando... Sì, che ha tutto il caso di modificazione di indirizzo. Io forse non è chiaro, ma... No, no, no. Vi invito a rileggere quelle linee di indirizzo. Posso? Prego. Posso, mi si tratta. Allora, siccome hai prima fatto l'esempio della casa, no? Che è una persona che ha posto la casa e chiama... Allora, facciamo... Le parlo del mio lavoro. Io dopo la grande distribuzione noi vendiamo le lampadine. Io lavoro da 14 anni lì. Abbiamo cambiato 8 fornitori, perché non erano in grado di star dietro al sistema di illuminazione che cambiava continuamente. E ogni volta c'è un appalto per il massimo 2 anni. Dopodiché si rinnovano bene, altrimenti non cacciano fuori. Questa è la grande distribuzione, questa è la che hanno dato di sempre, è molto pezzante. Perché molte di grandi aziende, di grandi aziende, sono state in grado di fare il salto ed arrivare al red. Ok? In due anni. E sono stati tirati a fare. E questi, vent'anni. E la sai che cosa potrebbe succedere in vent'anni? Vent'anni fa andavamo con le macchine... Lei vent'anni fa quanto pagava di bollette elettriche? Io non pagavo perché stava a casa di mamma. Io non sono mai pagato, sono mai pagato. Oggi quanto pagavano? Nonostante che la tecnologia hanno fatto salti da gigante, rispetto a vent'anni fa immagino il sindaco, però se noi ti siamo in grado di una lavora, il sindaco, se noi ti siamo in grado di oggi, se noi ti siamo in grado di oggi, il discorso che sta facendo, un attimo per favore, stavo parlando un attimo. Io stavo facendo il paracone con un'azienda, e quindi andare avanti, guadagnare e evitare le dipendenti. Se lei ragionasse così, vent'anni è proprio un suicidio. Non c'è un'azienda in grado, perché se io metto oggi i red, e tra cinque anni i red non vanno più, sono ancora efficienti le lambarine, come quelli sono, sono efficienti, fanno luce. Ok? C'è un'acqua, va beh, è un parere. Ah, c'è? Sì, ve lo potrebbe prestato, prego. Cioè, zina, poi il discorso, il pallagone che ha fatto la consigliere è imbarazzante. Cioè, imbarazzante, ma oggi lei, noi ci dobbiamo decidere per un canone, che sarà deciso oggi, per vent'anni, con modificato, con l'indicizzazione, se fa cinque anni, uscirà un sistema di illuminazione, un sistema di lampada, che consuma il 10% di quello che consumiamo oggi, il comune paga sempre quel canone. Quindi, è questo il discorso, la domanda succede, su cui dovete riflettere. Sì, sì, sì. Perché qua, alla fine, chi paga è sempre il cittadino. È chiarissimo. È chiarissimo. Ecco, posso rilassare. Pronto, ultima cosa, ultima cosa, il discorso dell'artennanza del... del discorso della parzializzazione, perché mi sembra che la mia salaria è tutta parzializzata, il resto niente, la parte sono del genio, quindi qualcosa c'è. Ma lo esattiamo? Completato? Perché il carattore l'abbiamo girato tutto, anche di notte. Completato? Sì. Perché il dito dormire a notte, comunque... Ma facciamo anche questo, i soldi non si dormono, anche questo c'è neanche niente. i soldi dei cittadini non si dormono e non siamo tenuti a fare... No, non ho finito. Avete finito? No, no, non ho finito. Lei non può dire, i soldi dei cittadini, di notte andare a dormire. Non è possibile. Vabbè, finiamoci a riaprire. Finito? Allora, posso ripiegare? Posso ripiegare? Allora dico, noi non dormiamo i soldi dei cittadini, anzi, siamo proprio quelli che non stiamo dormendo affatto i soldi dei cittadini, lo stiamo dimostrando, soprattutto lo stiamo dimostrando con i fatti, con i fatti, perché noi quando dicevamo da quei banchi dove sedete voi che con la raccolta differenziata ci poteva essere un risparmio, lo stiamo dimostrando con i fatti, lo stiamo dimostrando con i fatti, no? E lo stiamo dimostrando, mentre si mettevano le mani in tasca ai cittadini negli anni passati, noi lo stiamo dimostrando con i fatti, le nostre bollette costano meno, ma di cosa? Ok? Le bollette le da, le bollette le da costano meno, ok? Faccia le domande, la cittadina, ma di cosa? Io non faccio domande, io porto fatti, i numeri ci dicono che la data costa meno, dimostratevi il contrario, dimostratevi il contrario, dimostratevi il contrario, dimostratevi i componenti, portatevi i componenti dello scorso anno, portatevi i componenti dello scorso anno, facciamo le conferenze, dimostriamo con i fatti, 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 dimostriamo con i fatti. Adesso diamo la parola al consigliere Rossi. Posso? Allora, lei prima parlava di questioni che fanno tremare i fatti, che non sono solo questa, questa è la pubblicità mia, quella è la illuminazione che la diceva, Parla proprio di così, e voglio dire che a me i pulsi tremano perché non trovo più il cassonente dell'immunizia. Mi avete messo? No, 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 perché il signore è che non lo dici, è un esempio, il signore è che parliamo di città, non 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 è previsto una volta del giorno la... Allora, stavamo parlando adesso, ma come c'è? Cioè, il signore può parlare di questo io non ne posso parlare, perché qua te lo dico, lo scusate, un esempio di... Allora, io non lo posso rifare, un esempio di non risparmio di me, lo posso fare? Lo posso fare? Scusi, se il signore lo può fare, io lo posso fare... Si calma se può fare... No, vabbè, con calma, il signore è che si è tirato, se l'ha detto con calma, anche al signore, con calma, ok, allora, quindi dicevo che a me la dà è aumentata, ecco, questo è quello, ok, e poi è vero quello che diceva. Mi può portare la bolletta ma non lo posso fare, ma come no? Ma come no? Non lo facciamo? Ma dove? Ma le manderanno a voi, ce la vede? No, no, come la vetta? Eh sì, noi ce la abbiamo, noi ce la abbiamo. Ma che fa? Mauro, vorrei fare l'intervento, io in merito invece all'illuminazione pubblica è al bando. Io ho un'esperienza penitennale di un'azienda che fa di questi lavori per tutta Italia, è la settima in Italia e li fa per tutte le amministrazioni pubbliche. Negli ultimi anni si fanno tutti in questo modo e il periodo è collegato al valore delle bollette. Quindi è una conseguenza del valore della bolletta e quindi è stato fatto un business plan. Noi ancora di definitivo l'abbiamo fatto, però all'ingegno dovrebbe ottenere le osservazioni. Molte delle osservazioni che voi avete fatto, molte le vorrebbero, quasi tutte, sono state da noi valutate e in questo anno sono state sviscerate. Quindi già ne abbiamo tenuto una. Oggi stiamo a parlare di un atto di indirizzo. Come diceva il sito, noi all'archivio Marcioni chiediamo questo atto di indirizzo di portare avanti questo progetto. A progetto e a bando ci ritroviamo con lo spirito di collaborazione, scusatemi, con lo spirito di collaborazione a progetto e a bando, deponiamo le armi e con lo spirito di collaborazione nell'interesse attuale al cittadino produciamo un documento più efficace perché parleremo di cose concrete sul progetto e se troviamo dei miglioramenti, dei contributi, voi ci sicuramente apprezzeremo. Io questo è... Volevo dire, dopo aver letto dieci facciate, credo che non siano in vale, se queste tematiche le avete sviscerate e questo è il forzo che ci portate qui, no. Allora, andiamo a votare con la doppia modalità, il punto 4. Quindi, procediamo subito. Chi è contro? Quattro. Scusa, allora facciamo giustamente come dice Sinto. Allora, prima votiamo l'emendamento con una votazione singola, ok? Poi votiamo il punto 4 emendato, ok? Quindi votiamo per l'emendamento. Chi è contro? Quattro. Chi si astiene? Nessuno. A favore? Non c'è uno. Bene, adesso votiamo con la doppia modalità, il punto 4. Quindi, emendato, chi è contro? Quattro. Chi si astiene? Nessuno. A favore? Non c'è uno. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Chi è contro? Chi si astiene? A favore? Non c'è uno. Non c'è uno. A favore? Grazie a tutti.